C'è anche il tanto teso nero su bianco per quanto riguarda l'avvio del processo di stabilizzazione per i 136 lavoratori precari del comune, una delegazione dei quali ormai da quasi un mese era in assemblea permanente all'interno dell'Aula Consiliare di Palazzo di Città. Il presidio è stato sciolto ieri. È stato chiuso nel tardo pomeriggio di lunedì il protocollo d'intesa per avviare la stabilizzazione entro il 31 dicembre dei primi quattro dipendenti di categoria A. Questo permetterà agli altri 132 intanto di ottenere sicuramente una proroga fino al 31 dicembre 2015. Sull'esito della lunga fase preparatoria, si legge nel comunicato diffuso ieri da Palazzo di Città, ha espresso parere favorevole del commissario straordinario Maria Grazia Brandara che sin dal momento del suo insediamento aveva assunto l'impegno a portare positivamente a termine la questione nei limiti imposti dalla legge e dalla disponibilità finanziaria. Palazzo di Città ha confermato anche i numeri anticipati la scorsa settimana riguardanti il processo di stabilizzazione nell'arco dei tre anni. Il piano nel triennio 2014-2016 prevede la stabilizzazione di 26 unità lavorative così suddivise, 4 unità di categoria A nell'anno 2015, 18 unità di categoria A nell'anno 2016 e 4 unità di categoria C nel 2016. Si precisa che il 50% del contingente avverrà con accesso dall'esterno. Un ruolo importante lo hanno giocato nell'avvertenza anche le sigle sindacali. Sempre a livello di personale in servizio nell'ente, Palazzo di Città ieri ha reso noto che con determinazione del dirigente del Dipartimento Affari Generali è stato approvato l'avviso a bando per la copertura di un posto di dirigente della Polizia Municipale con contratto a tempo determinato per un anno. L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata alla Segreteria Generale del Comune tramite l'ufficio protocollo entro il termine perentorio delle ore 14 del 31 dicembre 2014. Il bando è stato pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune. Nuovo comandante di Polizia Municipale in vista, pertanto. Il ruolo da delegata delle funzioni dirigenziali finora è stato ricoperto da Giovanna Incorvaia.